Siamo alla circonvallazione di Catania ed esattamente in Viale Bolano, all'angolo con via Sebastiano Catania. Il tratto di strada si presenta come un lungo rettilineo e i mezzi sfrecciano a velocità. Per attraversare la strada vi è un semaforo che da circa tre mesi è guasto. Il 22 agosto avevamo constatato che nonostante i cittadini e vari consiglieri comunali, tra i quali Sebastiano Anastasi, avessero segnalato che l'impianto era spento, nulla era stato fatto. Oggi siamo tornati per verificare lo stato delle cose. Abbiamo provato ad attraversare la strada premendo il bottone della chiamata pedonale e dopo qualche secondo è regolarmente comparsi il verde. Nonostante questo però nessun mezzo si fermava, anzi procedevano spediti. Ci siamo quindi insospettiti che qualcosa non andasse. In effetti abbiamo riscontrato che gli automobilisti, mentre ai pedoni scattavo il verde, quindi il via per poter attraversare, vedevano un semaforo spendo e quindi restavano ignari dell'esistenza di un pedone che sta attraversando pensando di essere in sicurezza. Situzione abbastanza pericolosa dunque, in un tratto di strada dove appunto i mezzi viaggiano a velocità sostenuta e dove la visibilità è scadente per via della vegetazione presente sui bordi stradali. E allora l'appello di questo residente. Se questo semaforo non funziona bene, cosa si deve fare? Se volete pensare che è spasciato?